Questa mattina alle 13.40 c'è arrivata questa comunicazione da parte di Enel, ce l'ha portato un operaio dicendo che l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare i lavori, leggo testualmente, sui nostri impianti. Quando? Dopodomani, quindi tra meno di 48 ore, dalle 8.30 alle 14.30. Tutti sanno che a Fano c'è il mercato e quindi verrà interrotto questo servizio che di fatto costringerà tanti di noi a chiudere. Ecco, questa è un po' la sintesi della situazione che ha poi tante gravità dietro a seconda dei casi. Ci sono appunto dei problemi tecnici anche per quanto riguarda i frigoriferi? Beh, i problemi tecnici sono tanti, alle mie spalle c'è la gelateria che ha incaricato me di portare anche le sue problematiche, che ha ordinato, domani avrebbe il giorno di chiusura, ha ordinato decine e decine di latte e di panna, ha iniziato una produzione e questa è tutta roba da buttare via perché è roba fresca, freschissima. Noi, come tanti altri, parlo di Caffè del Teatro, parlo di Darderi, parlo della pideneria, parlo del Barmeri, qui c'è la roba da togliere di frigo, c'è una mattina che è delle poche, soprattutto di questi tempi in cui si lavora molto bene con questo tempo, dovremmo tenere chiusi. Ma meno di 48 ore prima c'è stata segnalata questa cosa ed è una cosa un po' assurda. Penso di rappresentare un po' il pensiero di tutti quanti perché un mercoledì mattina qua dovremmo tenere chiusi tutti. Avete provato a contattare qualcuno? Sì, Elisabetta del Caffè del Teatro ha contattato questo numero verde, ci ha risposto una centralinista di Bologna, ha detto che dobbiamo cercare di essere più fortunati a beccare Ancona, ma potrebbe rispondere Milano, Firenze, Catania, potrebbe rispondere chiunque. Hanno detto che loro per questi lavori ottengono i permessi, non so da parte di chi, 45 giorni prima. E che però per legge lo devono comunicare agli esercenti 48 ore prima, ma io non credo che la legge obblighi di comunicarlo da 48 a 0 ore prima, perché se vogliamo essere formali c'è arrivato meno di 48 ore prima. Credo che la legge dica almeno entro 48 ore prima, ovviamente siamo usciti sotto le 48 ore probabilmente perché siamo in Italia. Anche lei ha il negozio locale proprio in piazza Anderacossa, per cui nel centro, nel cuore del mercato. Sì, e ci provoca un grosso disagio perché appunto mercoledì e sabato in questo momento di crisi sono gli unici momenti in cui si lavora un pochettino di più e ci permettono di respirare, togliendoci uno di questi giorni ci provoca un forte disagio. Non penso solo a me, ma a tutti quanti gli esercenti e ambulanti che lavorano in questi giorni. Molti esercenti ancora non ne sono venuti a conoscenza. Non neanche perché le pescherie aprono domani, hanno il cartello attaccato fuori e non si riescono neanche a organizzare per il mercoledì. Quindi oltretutto chiami a Enel e casca la linea, quindi non ti danno spiegazioni e non si sa come comportarsi. Io proverò a richiedere dei danni, ma non so se si riuscirà a risolvere qualcosa.